Oltre i 4.000 passeggeri in appena due settimane raggiunti con un solo collegamento di linea giornaliero con Roma e con un charter settimanale verso la Francia, è iniziata sotto i migliori auspici la fase 2 dell'aeroporto di Comiso ma c'è ancora tanto da fare a cominciare dalle rotte che vanno implementate. Sì, bisognerà lavorare perché attualmente abbiamo fatto degli incontri con alcune società, con compagnie aeree che sono interessate ad atterrare su Comiso. Li dovremmo aiutare perché fondamentalmente è un aeroporto che non ha uno storico e quindi qualsiasi compagnia ha bisogno di essere in qualche maniera aiutata. Lo faremo come suo ago, questo dovrà passare da un consiglio di amministrazione ma è l'unica strada che potremmo portare avanti per incentivare questo aeroporto. Intanto fa pensare di essere partiti con il piede giusto il riconoscimento ottenuto dall'aeroporto di Comiso e dalla sua società di gestione. La Ciampino Comiso è stata insegnita del premio Route of the Week Award ovvero rotta della settimana dal portale aeronautico www.anna.aero. È un attestato che arriva all'Asoaco, agli aeroporti di Roma e al Ryanair per il positivo impatto economico che l'ha rotta avuto sul territorio. Quindi siamo soddisfatti perché premia anche l'organizzazione dell'Asoaco oltre al fatto che fa capire quanto è importante l'aeroporto di Comiso per il territorio ebreo.